Allora, adesso l'ultima comunicazione di Paola, boffo, sul semestro europeo. Altre brutte notizie, te. Grazie, Osqualina, grazie a tutti. Dunque, io mi ero ripromessa di dare un complemento alla relazione di Andrea e alla comunicazione di Ernesto, contestualizzando un po' queste discussioni rispetto a quello che poi effettivamente sta accadendo in questi mesi, in queste settimane, e con riferimento ai documenti che sono emanati anche proprio in questi giorni. E in effetti riparto proprio dal semestre europeo, che aveva già citato Ernesto. Il semestre europeo, come sappiamo, si chiama semestre perché ha cadenza semestrale, nel senso che inizia appunto in autunno con la pubblicazione dell'analisi annuale della crescita, che adesso si chiama analisi annuale della crescita sostenibile, perché contiene anche a riferimento agli obiettivi globali di sostenibilità delle Nazioni Unite. Quindi la Commissione presenta l'analisi annuale della crescita, la relazione sul meccanismo di allerta a cui faceva riferimento Ernesto, la proposta di relazione comune sull'occupazione, le conseguenti proposte e raccomandazioni per i paesi della zona euro, e i pareri della Commissione sul progetto dei piani di bilancio degli stati membri della zona euro. Io vorrei soffermarmi, non parlerò del meccanismo di allerta, ne ha già parlato Ernesto, né dei progetti di bilancio, dei piani di bilancio degli stati, i quali sono attualmente, come sappiamo, all'esame della Commissione. Peraltro sul sito della Commissione si vede che il progetto di bilancio dell'Italia, per esempio, è in via di aggiornamento. I documenti sono stati presentati, il pacchetto d'autunno sostanzialmente, appunto così si chiama, del semestre europeo è stato presentato il 22 novembre scorso. E voglio richiamare alcuni dei passaggi che mi sembrano più rilevanti della, appunto, comunicazione della Commissione. L'analisi annuale delinea, quindi, le principali caratteristiche, anche mettendo in evidenza i cambiamenti rispetto a quello dei cicli precedenti. Perché in questo caso, ovviamente, sappiamo tutti che ci sono stati degli eventi anche molto importanti che ci colpiscono tutti e principalmente la questione della crisi energetica conseguente alla guerra, in sintesi. E quindi tiene conto l'analisi della crescita anche delle priorità del programma che si chiama Repower EU, che è questo nuovo programma proposto dalla Commissione che serve per accelerare in qualche modo la transizione verde, la transizione energetica e a cercare di riparare i danni che si sono verificati sul piano delle politiche energetiche e soprattutto dei costi delle politiche energetiche. L'analisi parte dal rilievo che la ripresa successiva alla pandemia del Covid è stata più rapida del boom del dopoguerra poiché c'è stata un'espansione del PIL reale del 5,4% nel 2021. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando dell'Unione Europea, cioè tutti questi dati si riferiscono all'Unione Europea nel suo complesso e ovviamente vanno invece poi articolati sui casi dei diversi paesi. La Commissione ci dice che l'inflazione però sta erodendo il potere d'appisto delle famiglie poiché ha di molto superato la crescita dei salari e ha quindi un impatto negativo sui consumi e dice testualmente che gli aumenti dei costi, le interruzioni della catena di approvvigionamento e le condizioni di finanziamento più rigide stanno pesando sui investimenti e cioè che le politiche sostanzialmente monetarie di stretta sui tassi di interesse di fatto hanno delle conseguenze negative sugli investimenti e quindi sulla potenziale diciamo di crescita di ripresa dell'economia. Nel 2024 si prevede che il debito pubblico, il rapporto debito pubblico PIL nell'Unione Europea nel suo complesso che era aumentato notevolmente si dovrebbe invece stabilizzare nel 2024 appunto sull'84% del PIL. Rapidamente non so se si ecco vi volevo far vedere questo grafico in cui si rappresentano i debiti dei diversi stati membri questo è il debito del 2020 il primo Rina Colonna si riferisce alla Grecia la seconda si riferisce all'Italia e quindi l'Italia sta a 160% credo stava nel 2020 in questo grafico c'è anche la composizione del debito dal punto di vista diciamo di chi lo detiene e quindi vediamo che il debito italiano è un buono diciamo percentuale detenuto dalle banche della banca nazionale banche degli istituti finanziari anzi nazionali e dai residenti la commissione ci dice poi che per conseguire gli obiettivi dell'Unione Europea è l'essenziale conseguire gli obiettivi principali gli obiettivi posti dal pilastro europeo dei diritti sociali perché questi obiettivi poi vediamo meglio nel dettaglio posti in materia di occupazione competenze e riduzione della povertà mette in evidenza poi questa comunicazione che la risposta che viene data alla politica della crisi energetica chiaramente richiede una combinazione di sforzi sia a livello nazionale che a livello di Unione Europea e questi sforzi possono essere supportati sia dal bilancio europeo che da Next Generation EU sappiamo che Next Generation EU ha un importo complessivo che raggiunge circa 800 miliardi di euro e quindi in qualche modo è quasi pari all'entità del bilancio europeo per il ciclo 2021-2027 anzi come sappiamo è anche più accelerato perché Next Generation deve essere completato entro 2026 e oltre al supporto dal punto di vista finanziario ovviamente questo il programma sostanzialmente come sappiamo la maggior parte di Next Generation EU è costituito dal dispositivo per la ripresa e la resilienza che finanzia i piani nazionali di ripresa e resilienza che sono finalizzati a finanziare investimenti prevalentemente investimenti pubblici e un ambizioso programma di riforme finora nell'ambito di questo dispositivo sono stati erogati 137 miliardi di euro quindi sostanzialmente siamo a sostegno delle economie e contemporaneamente i programmi per la politica di coesione dopo dalla pandemia hanno erogato oltre 160 miliardi di euro per promuovere la convergenza sociale e regionale quindi è importante sottolineare il fatto che il dispositivo per la ripresa e la resilienza è strettamente integrato al semestre europeo ormai diciamo che nel semestre europeo si valutano i progressi fatti nell'ambito dei piani nazionali di ripresa e resilienza e quindi c'è un supporto dal punto di vista finanziario che va poi monitorato e controllato nell'ambito del semestre europeo gli stati dicevamo prima che contribuiscono allo sforzo basato sul bilancio europeo e sul dispositivo per la ripresa e la resilienza cosiddetto recovery fund per confrontarsi appunto per concettarsi sulle riforme e sugli investimenti per migliorare la situazione degli investimenti sulle energie per la diffusione delle energie rinnovabili altre tecnologie pulite e per le infrastrutture del settore energetico e questo soprattutto attraverso il programma Repower You come succede questa cosa con l'integrazione all'interno dei piani nazionali di ripresa e resilienza di nuovi capitoli cioè un nuovo capitolo per ciascuno stato membro finanziato dalle risorse di Repower You e finalizzato a rafforzare le politiche in campo energetico di resilienza delle infrastrutture energetiche e per il cambiamento verso le fonti rinnovabili diciamo molto in sintesi ora questo significa che quello che anche l'attuale governo sta sostenendo sulla volontà di modificare il piano nazionale di ripresa e resilienza è in realtà già scritto diciamo nelle carte poiché bisogna comunque fare questa operazione introducendo un nuovo capitolo si sta già facendo nel piano nazionale che poi sarà approvato dalla commissione in realtà sarà scritto insieme alla commissione sostanzialmente quindi si evidenza appunto che esistono queste forme di supporto dal punto di vista finanziario nel documento si scriverà delle politiche attualmente vigenti un altro elemento da tenere in considerazione è quello che si chiama social climate fund cioè un nuovo fondo che la commissione ha proposto nell'ambito del pacchetto fit for 55 e cioè diciamo della del green deal europeo che serve a finanziare a supportare gli stati nel finanziare i costi della transizione energetica sostanzialmente saranno stanziati e il regolamento attualmente si trova nella fase di trilogo di cui ha parlato all'inizio Andrea e per un importo di 59 miliardi per finanziare l'efficientamento energetico il rinnovamento degli edifici il trasporto a bassa emissione e sostanzialmente supportare le famiglie soprattutto le famiglie più a basso reddito quelle che si trovano più esposte dall'aumento dei costi oltre che dalla trasformazione dell'industria sostanzialmente quando si passa dal carbonifero diciamo all'industria verde che ovviamente necessita di ristrutturazioni ambientali aziendali e ristrutturazioni proprio di settori di interi settori produttivi il tasso di occupazione allora dicevamo che in questo in questa tornata del pacchetto d'autunno la commissione propone anche una fa una proposta per di relazione comune sull'occupazione come sappiamo abbiamo detto prima che la commissione ha potere d'iniziativa e quindi fa proposte che devono essere poi approvate dal Parlamento e dal Consiglio e quindi tutto questo quello di cui stiamo parlando adesso sarà poi approvato nel Consiglio che si terrà il 15 dicembre prossimo sostanzialmente poiché il Consiglio poi assumerà diciamo le proposte della commissione però sostanzialmente i contenuti poi delle proposte sono sono questi che stiamo vedendo ora allora dal punto di vista dell'occupazione la commissione ci dice che nel 2021 il tasso di occupazione ha raggiunto il record del 74,8% nel secondo trimestre del 2022 che tuttavia il tasso dei giovani cosiddetti NET cioè non in occupazione non in formazione è comunque permane elevato all'11,7% nel secondo trimestre del 2022 su questo attrago la vostra attenzione sul fatto che stiamo parlando di un dato medioeuropeo e quindi possiamo immaginarci cioè adesso non ho sotto mano i dati però quali sono i dati effettivi per l'Italia quali sono i dati effettivi per l'Italia del sud e per le regioni più arretrate del sud non ho appunto sotto mano questo dato ma siamo sicuramente intorno al 30% per lo meno il rischio di povertà è rimasto più o meno invariato rispetto al periodo della pandemia ma il che significa che comunque una persona su cinque è a rischio di povertà e allora cosa succede? Succede che la ripresa del mercato del lavoro da un lato ma e la stabilità di questi indicatori sociali riflettono l'impatto positivo delle misure che sono state adottate e d'altra parte appunto questo il supporto che è stato dato comprende da un lato il sostegno dell'Unione Europea da un lato l'effetto stabilizzante dei sistemi di welfare anche soprattutto nazionali e dicono le riforme strutturali che sono state attuate nell'ultimo decennio tuttavia la stessa commissione fa notare che si prevede che gli effetti sull'occupazione differiscono significativamente per settore per genere e per regione poi solleva un'obiezione sul fatto che oltre il 70% delle misure di sostegno comunque sono state misure orizzontali cioè non sono state mirate su specifici settori magari a cui erano direttamente per i quali erano più necessari e quindi avverte che è sempre più importante che queste misure invece siano mirate alle famiglie vulnerabili e che si mantengono di incentivi per ridurre il consumo delle energie da un lato e per promuovere quindi l'efficienza energetica dall'altra bisogna riorientare le misure di supporto anche perché cito le misure rivolte ai gruppi svantaggiati ottengono risultati migliori in termini di stabilizzazione economica sappiamo che il cosiddetto cioè insomma la propensione al consumo delle fasce più deboli della popolazione si avvicina al 100% diciamo perché ovviamente i redditi sono prevalentemente impiegati nel consumo a differenza che in altre classi più alte dove invece c'è un acuto di risparmio più importante aggiungo che a proposito di propensione al consumo come sappiamo propensione al consumo uguale a 1 cioè 100% è proprio della pubblica amministrazione ovviamente perché spende poi investe tutto quello che entra e direi che propensione al consumo pari a 1 è anche quella dei percettori del reddito di cittadinanza poiché percepiscono un assegno che possono solamente spendere e non possono assolutamente risparmiare la crescita dei salari cioè in realtà qua si tratta di crescita di quota dei salari perché dice che è stata trainata principalmente dall'aumento delle ore lavorate rispetto al periodo chiaramente covid e però è rimasta al di sotto dell'inflazione e quindi una contrattazione collettiva efficace è fondamentale e quindi è fondamentale l'aggiornamento dei salari minimi nella comunicazione relativa all'occupazione che consiglio di leggere qui non ho chiaramente nel tempo nel modo di approfondire troppo si raccontano si richiamano gli obiettivi dell'Unione Europea per il 2030 in materia di occupazione competenze e riduzione della povertà e c'è la tabellina che si trova nella in questa comunicazione dove si vede che l'obiettivo al 2030 per l'occupazione è pari al 78% a livello Unione Europea l'obiettivo di percentuale di adulti con un'occupazione con una educazione terziaria quindi a laurea diciamo deve essere pari al 60% e che si prevede ci si pone l'obiettivo di ridurre la povertà di 15 milioni di individui in Italia ci si è posti rispetto a questi obiettivi un tasso di occupazione del 73% un tasso allo stesso modo dell'educazione terziaria di 60% e una riduzione delle persone in povertà di 3 milioni 200 mila persone nel 2022 l'orientamento del bilancio è stato espansivo come abbiamo visto poiché gli stati membri hanno adottato delle azioni rapide ma non sufficientemente mirate probabilmente diciamo tra le due cose c'è un trade off per attenuare l'impatto delle crisi queste misure sono state misurate nell'1,2% del PIL dell'Unione Europea però appunto il 70% di esse come per esempio aliquote riva ridotte o accise o modifiche rilievi e sussidi sui prodotti energetici non sono state concentrate sulle famiglie più vulnerabili e sulle piccole imprese più esposte quindi si ribadisce che è importante che queste misure si concentrino sulle famiglie vulnerabili il semestre europeo abbiamo detto parte in autunno in questi giorni con il pacchetto d'autunno che è un'analisi a livello di Unione Europea e invece nel nella fase del pacchetto nel pacchetto di primavera insomma quindi aprile-maggio la commissione pubblicherà delle relazioni per paese quindi farà un'analisi paese per paese e proporrà delle raccomandazioni specifiche per paese altra cosa importante è che appunto il semestre europeo che si propone di inquadrare e di monitorare il coordinamento delle politiche dell'Unione sia dal punto di vista dell'economia sia dal punto di vista dell'occupazione sarà monitorato appunto insieme ai piano finanziato da Next Generation EU sostanzialmente per verificare come i paesi effettivamente hanno attuato il piano come i paesi effettivamente hanno realizzato gli investimenti che si sono proposti e hanno attuato le riforme che sono previste dai piani infine vorrei leggere in realtà le cinque raccomandazioni che la commissione propone che la commissione raccomanda al consiglio di adottare e che riguardano la prima il coordinamento delle politiche fiscali fra gli stati membri per sostenere il tempestivo ritorno dell'inflazione è l'obiettivo a medio termine del 2% della BCE sarà diciamo una cosa abbastanza ardua da perseguire cordando un approccio comune supportando le misure tariffarie su base ampia vabbè salto un po' perché se no prendo troppo tempo e definire strategie fiscali di medio termine opportunamente differenziate per aumentare il potenziale di crescita in modo sostenibile la seconda raccomandazione riguarda la necessità di sostenere un livello elevato di investimenti pubblici che sono necessari per rafforzare la resilienza economica e sociale e per sostenere la transizione verde digitale la commissione e conseguentemente il consiglio raccomanda di attuare i programmi della politica di coesione e i piani per la ripresa e la resilienza garantendo la tempestiva attuazione delle riforme degli investimenti e garantendo che gli aggiornamenti dei piani siano mirati e non riducano l'ambizione complessiva infine cioè non infine ma la terza raccomandazione riguarda la parte più nel mercato del lavoro e la parte sociale conformemente alle prassi nazionali nel rispetto del ruolo delle parti sociali sostenere l'evoluzione salariale che attenui la perdita di potere d'acquisto dei salariati particolare per i lavoratori a basso reddito riflettendo nel contempo l'evoluzione della produttività a medio termine e limitando gli impatti secondari sull'inflazione inoltre sviluppare e adattare ove necessario i sistemi di sostegno sociale per aiutare le famiglie vulnerabili ed affrontare lo shock energetico e le transizioni verde e digitale affrontando l'aumento del rischio di povertà migliorare ulteriormente le politiche attive del mercato del lavoro e adottare misure per affrontare le carenze di competenze garantire l'effettivo coinvolgimento delle parti sociali quarta raccomandazione riguarda il sossegno alle imprese soprattutto le piccole e medie che sia conveniente temporaneo e mirato ad imprese solide quindi il sostegno fornito dovrebbe mantenere gli incentivi per l'efficienza energetica e preservare le parità di condizioni e l'integrità del mercato unico anche attraverso il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato contribuendo al progresso verso l'unione dei mercati e dei capitali infine la quinta raccomandazione riguarda la necessità di preservare la stabilità macrofinanziaria mantenere i canali di credito all'economia e continuare a sostenere l'integrazione finanziaria monitorare i rischi legati in particolare alle tensioni nel settore energetico l'aumento dei tassi di interesse alle attività deteriorate e all'evoluzione dei mercati immobiliari continuare ad impegnarsi attivamente nei lavori preparatori per l'introduzione di un euro digitale queste cinque raccomandazioni dovrebbero essere prese a riferimento degli stati per attuare le politiche in campo economico ma anche in campo di per quanto riguarda il mercato del lavoro e l'intervento nel sociale in realtà di solito questi aspetti non sono contenuti nelle raccomandazioni generali del consiglio del semestre europeo ma piuttosto appunto nella comunicazione sull'occupazione più specificamente dove c'è anche una serie di raccomandazioni molto più puntuali quindi diciamo che è abbastanza importante questo aspetto che in qualche modo già in questa fase diciamo rispetto al progetto di bilancio insomma di legge finanziaria che attualmente è in discussione in Italia rileva diciamo delle contraddizioni diciamo in questo senso io mi fermerei qui anche se diciamo avevo rilevato un altro paio di cose che erano abbastanza interessanti sia sul finanziamento di Next Generation in particolare sulla composizione della dell'indebitamento della commissione per finanziare Next Generation New perché mercoledì scorso 23 novembre il Parlamento ha tra l'altro fatto una insomma ha approvato la sua posizione sulla decisione sulle risorse proprie che riguarda la modalità di finanziamento della del bilancio europeo dove si infradurranno nuove fonti di reddito e poi mi è capitato di leggere un parere della Corte dei Conti relativo a una proposta sempre della commissione di modifica del regolamento finanziario dell'Unione europea dove si vuole introdurre una norma che è finalizzata al finanziamento dei prestiti fatti all'Ucraina 18 miliardi di euro sulla quale proposta la Corte dei Conti solleva delle obiezioni abbastanza consistenti non tanto per la destinazione dei fondi ma perché si vogliono finanziare mediante un'operazione sul bilancio che rischia di mettere in discussione di avere delle ricadute sui bilanci successivi nel caso in cui questi prestiti non fossero rimborsati nei tempi previsti e di tutto ciò forse se riesco a farlo queste note insomma posso proporlo a transforma di pubblicarle nel prossimo numero in modo che ci siano ci sono anche tutti i riferimenti ai documenti di cui abbiamo rapidamente parlato grazie grazie Paola benissimo può essere molto utile questo aggiornamento ciao